... 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 io pretendo, e ora lo va a dire qualcun altro, che da Piedermann no, lei lo ha bisogno, e lei di che sarei da chiedere da Maffermo, come è un passo. Non mi prevede niente, non mi prevede niente, non mi prevede niente. Per chi capisce, per chi capisce, per chi capisce, per chi capisce, ci mi interessa anche la Romagnola. Grazie. 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 Guarda il palermo di croce, ti capisci no? Mette l'uola a me in croce E troppo con la forza giusta Guarda l'uola, guarda l'uola So lento E' rossa, come è? So lento C'è voluto tutto Stai da domani C'è di Dai 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 rossa So lì dai E' il palco 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 Già Grazie